Il vero pastore sa congedarsi bene dalla sua chiesa perché sa di non essere il centro della storia, ma un uomo libero che ha servito senza compromessi e senza appropriarsi del greggio. E' quanto ha detto il Papa nella Messa del Mattino a Casa Santa Marta. Dal 31 maggio al 4 giugno saranno in 30.000 a Roma i partecipanti al Giubileo d'Oro del rinnovamento carismatico organizzato da ICCRS e Cattoliche Fraternity nel cinquantesimo anniversario. Al Circo Massimo venerdì raduno carismatico mondiale e Santa Messa presieduta dal Cardinal Farrell e sabato 3 giugno, sempre al Circo Massimo, la grande veglia di Pentecoste con Papa Francesco. Ieri pomeriggio il Vescovo ausiliare per la zona Roma Sud, Monsignor Lo Iudice, ha celebrato la Messa con i ragazzi del Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi nel settimo anniversario della morte del fondatore della struttura che lotta contro ogni forma di dipendenza. Alla Pontificia Università della Santa Croce è stata presentata una riflessione sul tema Africa, Migranti e Media, grazie ad Arambè, Onlus, legata all'Opus Dei e impegnata con l'Africa, come dice la parola Swahili, che significa tutti insieme. Il congedo di un Vescovo. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta, ha sintetizzato la prima lettura tratta dal Libro degli Apostoli nella quale si racconta il congedo di Paolo dalla chiesa di Efeso che lui stesso aveva fondato. Tutti i pastori, ha sottolineato il Pontefice, devono prepararsi a lasciare per andare dove il Signore indica, se si fa fatica e a causa di un legame che non è purificato per la croce di Gesù. Sono tre gli atteggiamenti indicati dal Papa che Paolo assume nel momento di congedarsi. Il non tirarsi indietro dinanzi alle prove, ma con il cuore in pace perché ha guidato la chiesa senza compromessi. Sapere che, ha evidenziato Francesco, il pastore è in cammino e per questo affidarsi pur non sapendo cosa accadrà, ma sempre con il cuore aperto alla voce di Dio, senza appropriarsi del gregge. Terza cosa, avere consapevolezza di non essere il centro della storia, ma un servitore. Con questo esempio tanto bello preghiamo per i pastori, per i nostri pastori, per i paroci, per i vescovi, per il Papa. Perché la loro vita sia una vita senza compromessi, una vita in cammino, e una vita dove loro non si credano che sono al centro della storia. E così imparino a congedarsi. Preghiamo per i nostri pastori. Il Papa ha ricevuto oggi i vescovi dell'Albania in visita ad Limina, un dialogo intenso in cui i presuli hanno manifestato le speranze e le difficoltà di questa piccola chiesa. Nel cuore di Francesco la chiesa albanese ha un posto speciale, una chiesa che ha sofferto tanto, 50 anni di una dittatura comunista che ha cercato di cancellarla senza riuscirci. C'è stato l'indimenticabile viaggio a Tirana del settembre 2014. Il Papa allora aveva invitato la comunità cattolica a volare alto come l'aquila della bandiera dell'Albania, ma senza dimenticare il nido, cioè le sofferenze dei martiri. Proprio nel novembre scorso sono stati beatificati 38 martiri del regime e anche oggi Papa Francesco ha esortato i vescovi albanesi a imitare l'esempio di questi testimoni del Vangelo che hanno pagato di persona la fedeltà a Cristo. Da domani al 4 giugno, nel cinquantesimo anniversario del rinnovamento carismatico cattolico, converranno a Roma in 30.000 dalle diverse realtà carismatiche e da 127 paesi del mondo. C'è fermento e attesa per il Giubileo d'Oro celebrato in concomitanza della prossima festa di Pentecoste. Il fitto programma di eventi è stato presentato oggi in conferenza stampa cui è intervenuta Michelle Moran, presidente dell'ICCRS, Rinnovamento Carismatico Cattolico Internazionale, e Gilberto Gomez Barbosa, presidente dell'Associazione Carismatica Mondiale Catholic Fraternity, con Salvatore Martinez, presidente nazionale del rinnovamento nello Spirito Santo. A partire da domani, con la Messa Santa Maria Maggiore alle 18, molti saranno gli incontri nelle basiliche e chiese di Roma, animati dalle comunità carismatiche, insieme a concerti, conferenze, iniziative di evangelizzazione, adorazione e preghiera, interverranno i testimoni dei primi anni del rinnovamento e i massimi leader mondiali. Un fitto programma di eventi, di incontri, di preghiera, che cosa rappresenta questo Giubileo per voi? Il racconto di un prodigio inesauribile di Dio, il rinnovamento e dono di Dio al mondo e alla Chiesa. Così lo abbiamo percepito noi nel riceverlo e così vogliamo testimoniarlo e raccontarlo, nelle sue tante espressioni, nelle sue tante realizzazioni, non come un movimento unificato, organizzato, ma come una realtà viva che in ogni angolo del mondo, per decine di milioni di persone, ha rappresentato la possibilità di una vita nuova, di una vita fraterna, di una vita nella quale la fede si testimonia con gioia e si incarna ogni giorno. Direi un Giubileo di Giubilei, perché ognuno ha una gioia da raccontare. E il fatto che tanta gente si muova da ogni angolo della Terra per venire qui, nella sede della cristianità, e rallegrare il cuore della nostra Europa, il cuore del Santo Padre e il cuore di tanti piccoli che attendono ancora l'annuncio di questo miracolo d'amore che è lo Spirito Santo, mi sembra una buona notizia per i nostri tempi. Il Giubileo d'Oro del rinnovamento carismatico in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita di questa corrente di grazia si apre domani con la partecipazione degli aderenti alle varie realtà carismatiche cattoliche all'udienza del Santo Padre. saranno presenti anche esponenti del mondo evangelico e pentecostale. Il Giubileo culminerà sabato 3 giugno nella grande veglia di Pentecoste al Circo Massimo con Papa Francesco che trasmetteremo in diretta. Venerdì, sempre al Circo Massimo, una serata di preghiera, canti, testimonianze, riflessioni e la messa presieduta dal Cardinal Farrell. Come invocare lo Spirito Santo oggi? Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ce lo raccomanda fortemente. Innanzitutto va invocato prima di ogni cosa perché è Lui che illumina, è Lui che ispira, è Lui che crea le condizioni interiori per rimanere fedeli al Vangelo. L'invocazione dello Spirito è come accendere una luce nel buio, cioè ci rivela, ci svela, ci dispone interiormente in ascolto di Dio e in una comunione profonda con Lui. Lo si invoca pregando, ce lo ricorda Gesù proprio nelle parole nelle quali chiede agli Apostoli di rimanere nel Cenacolo e di attendere la venuta dello Spirito Santo. Ma non può venire né si può ricevere colui che non si invoca. Ecco perché Elena Guerra diceva voglia un giorno che quel veni, quel benedetto veni che dal Cenacolo non l'ha più lasciato la Chiesa, diventi famoso almeno quanto l'ave. L'ave è spesso nella bocca dei cristiani, il veni un po' meno. Una celebrazione sentita e partecipata a quella che si è svolta ieri pomeriggio presso il Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi. L'ha celebrata Monsignor Paolo Lo Iudice, vescovo ausiliare per la zona Roma Sud, insieme a ragazzi e famiglie accolti dal CEIS, articolato in diversi servizi offerti a chi lotta contro ogni forma di dipendenza a persone indigenti ed esclusi. Occasione il settimo anniversario della morte del fondatore Don Mario Picchi. Sono circa 450 ragazzi con le loro famiglie. Questa è una celebrazione che tutti gli anni noi cosiddetti ragazzi di Don Mario celebriamo ogni anno il suo onore perché comunque Don Mario è sempre vivo tutti i giorni accanto a noi con la sua opera, i suoi miracoli che sono rappresentati proprio da questi ragazzi che oggi sono qui per celebrare questa messa insieme a tutti quanti noi. Ricordo qui le prime volte che venivo quando più di vent'anni fa ero viceparro in una parrocchia qui vicino e quindi c'era Don Mario nel periodo in cui lo conobbi, lo incontrai, lo invitai in parrocchia. Insomma quindi sì, un punto di riferimento senz'altro un luogo importante per il quartiere, la zona e poi per tutto il lavoro che il CEIS svolge come dire a livello più generale insomma diciamo proprio anche in città e fuori e in tanti altri posti. Don Mario Picchi cominciò ad animare i primi gruppi di volontariato nel 1968 occupandosi di ferrovieri e dei loro figli con grande attenzione ai problemi dei giovani. Negli anni 70 l'attenzione del sacerdote e dei suoi collaboratori si diresse verso il problema della tossicodipendenza la necessità più impellente allora. Si stava diffondendo l'uso di eroina con un'allarme sociale che cresceva in modo esponenziale. La prima comunità terapeutica del CEIS fu aperta nel febbraio 1979 alla periferia di Roma nella borgata del Trullo. E' dove l'essere umano purtroppo cade a terra si incontra e si scontra con le sue fragilità con le sue debolezze e con le insidie da cui è circondato. Quindi è brutto a dirlo non c'è niente di nuovo sotto il sole l'importante io credo che noi siamo siamo noi nuovi e rinnovati nel continuare ad affrontarle senza cadere nel rischio nella tentazione di pensarle di pensare di questi problemi insolubili che tanto non c'è niente da fare eccetera. Questa è la vera tentazione per noi cristiani è questa. Ricordiamo che cosa fate qui al CEIS Don Picchi. Sì, il nostro centro oltre che la prevenzione per quanto riguarda tutto il discorso delle dipendenze abbiamo aperto vari servizi con il tempo per far fronte a tutte le crisi sociali che attualmente è il nostro territorio di cui è investito. Quindi abbiamo centri antiviolenza per donne in difficoltà con bambini abbiamo aperto due nuovissimi centri per minori non accompagnati abbiamo un centro per giocatori di aggiardo patologico assistenza per anziani assistenza per malari di AIDS e un polo che racchiude tutte quelle che sono le problematiche degli adolescenti quindi prevenzione prima di tutto. Il CEIS oggi per me è appunto la mia realtà è quel progetto che mi ha accolto circa 15 mesi fa e mi ha dato la possibilità davvero di credere che io potessi farcela riprendere la mia vita sono molto giovane e qui ho trovato un lavoro terapeutico che appunto rispondesse a tutte le cioè veramente in pieno alla mia richiesta d'aiuto Travi appunto amicizie sostegno qualcuno con cui ti ascolta perché al di fuori di qua difficilmente la gente ascolta magari si parla ma in realtà nessuno vuole sapere realmente il tuo stato d'animo Io faccio parte di una comunità residenziale mettere il naso fuori da quel cancello non è semplice ma perché appunto sembriamo tornati a vita nuova e quindi mano a mano passo dopo passo con il sostegno di ognuno di loro insomma ci riabilitiamo a questa vita e io ho 23 anni e non vedo l'ora di viverla insomma di concretizzare qualcosa per me Per chi non l'ha conosciuto un ricordo di Don Mario Un ricordo di Don Mario posso dire semplicemente ha dato tutto senza chiedere niente quindi sempre la parte dei più deboli dei più fragili tutti i giorni 24 ore al giorno per assistere chi veramente ne aveva bisogno Migrazioni, sbarchi, profughi le notizie che riportano all'Africa e la percezione che emerge dalla stampa europea è dramma fuga e emergenza niente di positivo lo ha spiegato Antoine Thia Bondoux autore di uno studio su migranti e mass media presentato all'Università della Santa Croce in occasione della giornata mondiale dell'Africa Io direi che si emerge molto notizie negative e questo è anche vero perché ci sono dei genti che viene in Italia ci sono naufragi ci sono anche dei diritti umani che sono violati in Libia però penso che c'è poca notizia positiva sull'Africa forse perché i giornalisti non conoscono abbastanza l'Africa che è molto grande bisogna fare molto più ricerca contestualizzare le notizie sull'Africa La riflessione sul tema Africa migranti e media è stata promossa da Arambe Africa International Onlus legata all'Opus Dei nata in occasione della canonizzazione di San José Maria Escrivà Allora si raccolsero dei contributi da distribuire in diverse parti dell'Africa subsahariana e da allora ormai sono quasi 60 progetti che stiamo portando avanti in 20 diversi paesi dell'Africa subsahariana che tipo di progetti i progetti sono vari si parte dalla sanità la mamma il pozzo dell'acqua eccetera però di base in comune hanno molta serietà nella rendicontazione questo anche per un dovere di giustizia nei confronti di chi dona il proprio contributo e poi sono tutti progetti che partono da una precisa volontà africana di trovare una soluzione ad un problema insieme vediamo quale possa essere la risposta migliore perché diciamo che nei nostri progetti sono gli africani i protagonisti sono loro che propongono solo loro che aiutati da noi portano avanti il progetto perché poi sono loro che lo dovranno portare avanti nel tempo la parola harambe che in suahili vuol dire tutti insieme riassume il senso di questa organizzazione tutti insieme per accompagnare un continente ricco di umanità e potenzialità non ancora utilizzate veramente a distanza di 15 anni posso dire che per quanto piccoli perché i nostri progetti sicuramente sono piccoli però ci sono dei risultati veramente eccellenti proprio per questo perché abbiamo messo al centro l'africano che si sente protagonista e pieno di buona volontà ha voglia di cambiare lui ha la percezione che questo si può c'è una vena di ottimismo che si trasmette anche in un progetto di cooperazione quindi posso dire che a distanza di anni adesso abbiamo tanti amici africani e una discreta quantità di beneficiari che sono i nostri portavoce in loco io penso che loro hanno una bellissima idea che è di comunicare l'Africa e per me comunicare è un processo integrale che comunica tutto dell'uomo non solo una parte economica una parte non solo educativa ma tutto l'uomo il gioco dell'amore è un titolo provocatorio il sottotitolo è dieci passi verso la felicità di coppia perché il gioco dell'amore è un gioco ma la parola gioco in realtà la spiego all'inizio il gioco non è burla il gioco è qualcosa di serio un gioco senza regole senza gli equilibri di un gioco senza anche la grinta di portare avanti un gioco di vincere non è un gioco è un fallimento è una disfatta e quindi il gioco è un invito a portare il gioco con la G dell'amore con quell'umore che sostiene l'amore che sembrano giochi di parole ma in realtà sono cose molto provate e molto anche sperimentali infatti i dieci passi sono quasi l'allenamento in corso dell'esperienza dell'amore come è nata l'idea di scrivere questo libro? ma è nata intanto nella mia ricerca come sposo di trovare soluzioni ai conflitti che purtroppo a volte nei corsi prematrimoniali non vengono rilevati essendo io mia moglie cattolici praticanti pensavamo che tutto andrà divinamente e ci siamo accorti che se non conosci le regole del gioco anche se sei un pio cristiano puoi avere un matrimonio con difficoltà e poi man mano seppure il mio campo di studio teologico sia più dogmatico e più a livello di dialogo con i non credenti con l'ateismo con la cultura forse per il fatto che sono sposato sono stato sempre interpellato anche a parlare del matrimonio e lì ho scoperto che parlare del sacramento del matrimonio soltanto a livello teologico lasciava tra me e il pubblico una specie di distanza perché non andavo a toccare le loro vere domande e quindi mi sono impegnato con questo libro che è l'inizio di un percorso che ho in mente di fare di presentare una parte più umana che appiana la strada verso un matrimonio cristianamente fecondo e felice indubbiamente è vero che la famiglia è la cellula più colpita della nostra società più ferita e quindi indubbiamente le coppie hanno urgenza di essere aiutate proprio a camminare insieme a conoscersi a mettersi in gioco come diceva lui poc'anzi e e anche a affidarsi a quella che sono tutte le risorse della chiesa quelle che sono le risorse di un sacramento perché non ci dimentichiamo che dietro al matrimonio cristiano c'è un sacramento e che quindi può aiutare le coppie a crescere insieme perché appunto chi fa il corso di preparazione al matrimonio apprende alcune cose però poi è la vita che ci porta a vivere in un determinato modo prima pagina dell'osservatore romano con la data del 31 maggio 2017 autobomba uccide 15 persone poco dopo l'interruzione del digiuno per il ramadan l'IS torna a colpire Baghdad mentre Merkel apre in India e Cina in vista del G20 dialogo tra Macron e Putin non si ferma la crisi sociale e politica in Venezuela 200 feriti nelle manifestazioni a Caracas oltre 450.000 persone fatte sgomberare il tifone Mora minaccia il Bangladesh i vescovi dell'Albania in visita ad Limina Mora 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 Mora